occhia quelli in fondo che fanno un fascistone c'è di me Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lo so, questo cappellino non mi convince molto. Il mio personaggio. Non lo so, come non li vedi? Allora, qui il problema è uno e uno solo. Allora, lei inizierà a generare pullate. Dobbiamo stare al centro e cercare di evitare il veleno. Vedete? Colpirà e contrasta le pullate. Quindi, state al centro, fate mettere le tombe all'healer per lo spacco armature. Occhio alla UE. Qui è semplice. Bisogna contrastargli tutte le pullate. Entrate dentro le tombe. Piano piano a Rian sempre più. Ne state attenti. Dovete focusarli immediatamente. Vi dico dentro le tombe per un semplice motivo. Che dentro le tombe ci hanno spacco armature al 50 al 100. Occhio a Fantasminio, questi. Sì, ma è quelli che dovete fare. Lei è una manetta. Ok, è andata. Ok. Questa qui è brava, vedete che ho fatto. Allora, sempre piccole pullate. Inziate a focussare i maghi. I maghi, ragazzi, prima. Sono quelli che ti sciottano se vanno in sinergia. Occhio alle piante. Andate sul fondo. Uccidete gli addini. Questi qui. Sì, i maghi. Veloci, prima facciano sinergia. Ottimo. Non dobbiamo fargli fare la sinergia. Vedete il mago lì? Prendetelo. Questo e quello accanto. Questi. Veloci. Tanto lui si tirerà contro il berserking. Non dobbiamo fare la sinergia. Allora, mago è cattivo, ragazzi. Occhio alle piante. Ottimo così che non sembra neanche fangler vet. Quindi qui si tirerà contro il mito. ottimo mago venite voi a voi quando sono io mago dietro il fungo sì col bashing allora prendete a riferimento subito due maghi uno e due voi per una parte lui sì partite questi intanto lui tiene il resto però fucussandoli fate in modo che non ci sia white attento passati interni riefiante due maghi necromancer vai è qui posto teniamo rapidi maghi 1 adesso a sinistra insomma siete male il cappellino allora qui fucussare l'orso però a un certo punto fra tipo barriera cosa particolare prima fossa di quello il veleno è la rana la giubipede poi quest'altro qui poi partirete a colpi l'orso chi viene colpito da cani deve basciare i cani che ti uccidano se no vai veleno ad ea l'orso occhio chi vede cani avverta gli altri dai quello deve andare giù tanto il tank pensa il resto ecco i cani ragazzi occhio prenderanno un obiettivo fuori uso preso perfetto il tank io mi muovo in tondo occhio alle piante che via via si restringeranno quindi più danno fate meglio è dovete danneggiare l'orso di brutto dopo questo l'orso è il nemico principale però dovete togliere prima questi due per colpirlo e occhio alle piante veloci tutti sull'orso prima di partano cani allora dobbiamo farlo in minor tempo possibile sta tornando in vita il cane colpite di brutto l'orso che poi tornano in vita e si riparte prendete la rana e focussatela e si riparte col balletto tenti dietro via la pianta ogni tanto anche pianta si può lasciare esplodere schivandola ok andiamo subito sull'orso che si sta riprendendo questo qui vai cercate di stare più uniti possibili per le cure cane come dai su questo orsetto qui togliamo il ritorno per esitta anche stato bravissimo preso me lasciate dai ragazzi su ho usato a 200 vanno giù tutti oh molto molto bravi very very nice achievement sbloccato allora per il resto abbastanza facile ragazzi serve danno basta teniate presente maghi quanto quanto fate di danno si no 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 nel senso allora allora veloci sui maghi è lì di lato tanto si si nasconde sempre gran pezzo di mosa va bene c'è un punto di partenza scrivi video scrivi video ti no 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 Pronti? Allora qui dovete focussare l'isotema. Dovete focussare i totem. I totem si formeranno ai lati. Vedete queste reliquie di animale. Sono i totem perché fanno danni elementali. Per il restante dovete stare intorno al liceo e fargli danno. Va buttato giù. Lo vedi? Lo vedi perché parte il raggio e si illumina. Il meccanico dovrebbe partire all'ottanta. Eccolo lì ragazzi. Qua. Tosem la focussare. Eh ve l'ho detto. Bene. Dovete fare questo lavoro pulendo gli addini. E i totem. I totem sono pericolosi. Sì. Dov'è? Eccolo qui. Usatela. Ehi ragazzi. Occhio. Ok. Tantistain. Grandi Doni Ok come fanno la mia fermatura ok cosa di destra pronti vi aiuto ma è fosso eh sto cercando non ti credere che c'è anche lo specuro attivo dovete cercare di buttarlo fuori il prima possibile a lui lui è quello un po' più noioso insieme al drago finale vai faccio spacco armature occhio occhio ragazzi ok andiamo ok stiamo beccando danni ok doni sta cercando di dirci forse è boss ok ottimo lavoro ragazzi e dice vai si ho riparato tutto io andiamo a preparatevi al prossimo mostro c'è una meccanica aperte orari c'è una meccanica aperte c'è una meccanica aperte ci ho nevi sa che l'enfondo allora questo spirito si impossessa del corpo e lo fa colpire quello è compito il tank vieni dentro subito a un certo punto degli spettri prenderanno per le catene uno di noi e non prigioneranno vanno focussati per liberarlo vanno tutti esatto tranquilli tanto lo vedete aiutate il compagno si molto simile la meccanica però cercate di stare uniti in modo che vedete il compagno preso in teoria questo è più semplice di quell'altro ragazzi eccoci dai e lui ok e questa è la meccanica io ho preso vai preso lui andiamo lì tranquillo anche un'area lui ecco arriva no per ora no dai facciamolo fuori ok ragazzi ottimo lavoro veramente di Donny sta facendo un bel lavoro ok Vai, andiamo. Pronti, Maghi. Lu, buonasera, che l'hai a fare? Noi stiamo a fare la veteran. Allora, di Fang Lair, ok, di Fang Lair, tanta roba, Lu, infatti si voleva invitare, detto almeno si fa Fang Callu, però non c'eri, non c'eri, infatti si stava invitando per quello. Insomma, che si racconta Lu? Domani piove? Dieci? Allora, ragazzi, ci si avvicina il mostro finale. Il mostro finale, mi raccomando, ha delle meccaniche un po' particolari. Non è difficilissimo, un mostro che si basa non tanto sul danno, quanto sul fare le cose corrette nel momento giusto. Cioè, per assurdo è più importante che puliate gli addini, che è che facciate il mostro. Big Sector ancora vivo, ragazzi. Big Sector. Ok. Lu! Sveglia! Dio buono. Vabbè, ora aspettiamo a vederlo e ve lo dico, perché dovete vedere l'arena come è fatta. Sì, sì, fregatemi. Quello non è competenza vostra. Cioè, lo dovete distruggere e basta, ma è semplicissimo. Ricordatevi che in ogni dungeon c'è il preludio di quello che sarà il mostro. È il mago. C'è il preludio di quello che sarà il mostro. Vado a dire al mostro quei cristalli andranno fatti fuori. Ok? Li vedrete. Tanto siamo quasi arrivati. Allora. Continuiamo. Eccoci. Seguitemi. Ok, eccoci al mostro. Allora, varie meccaniche di questo. I cristalli vanno fatti fuori, perché fanno spawnare a Dini, ragazzi. Semplicemente. Quelli li dovete far fuori. A un certo punto, sempre. Lo vedete quando si illuminano? No, no, non si riformano, però dovete farli fuori. I cristalli, se non spawnano a Dini. Lui è già partito. A un certo punto, lei tornerà per formare una barriera. Una barriera che ci protegge dai morti, tipo nel Sinfoni. E noi dobbiamo metterci dietro quella barriera. Occhio alle... Dai, cristallo. Io sono stato dietro al cristallo. Non dovevo stare dietro al cristallo, scusate. Vai. Cristallo. Fate fuori a Dini. Cristallo a Dini. Forza cristalli. Ragazzi, purtroppo il tank non ha alternativa a portarsela a spasso. Qui. Non è colpa sua. A Dini. Pulite gli A Dini. E restate compagni. Ok. Prima fate i cristalli, meno a Dini spona. Quindi... Ora mi piaceva spiegarvelo un più calmo, ma lui è partito in quarta. Ok. Ok. Eccolo lì. Il raggio. Dai, andate sopra. Andate sopra. Veloce, andate sul cristallo. Vai. Ottimo lavoro, ragazzi. Ultimo. Fate pulito. Forza cristallo. Cristallo. Tenti e raggio. Ottimo lavoro, ragazzi. Occhio, barriera, seguite questo spiritino. Qui dove sono io? È l'unico modo. Eh, mi ha beccato il veleno. Donny l'ha portato proprio lì. Vai, grazie. Allora, pronti? Altra barriera. No, mi ha beccato, scusate, è colpa mia. Non ci ho fatto in tempo. Dai. Barriera è qui dietro. Sì, Donny sta portando un po' troppo. Sin. No. Allora, ok. Fermi. Passate. E ripartiamo con calma. Ecco, altra barriera. Controllate lo spirito, va qua. Qui, qui, vedete lo spirito. Focussate boss nei frammenti. Sì. Ora si... State vicini a me. Altri fantasmini. Qua, qua, dove sono io? Venite qua, 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 qua. No, ora resuscia. Ecco, ora un'altra meccanica. Sotto apparirà, ascoltatemi per cortesia, apparirà una way sotto i vostri piedi che si ingrandirà. Dovete correre ognuno in una safe zone. Lo vedete che farà a cerchio. Pronti? Qua, uno. Là, su... Ora aspettate e ripartite. È semplice, ragazzi. Sì, unica meccanica. Più gli spiritelli. Solita meccanica di spiritelli. Sì. Quindi occhio a chi vede i spiritelli. Prima lo buttate giù e meglio è. Pulite, mi raccomando. E ripartite. Pulite. Ah. Dai. Non fate prendere il pane. Sì, 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 ora va bene. Se siate in safe zone. Sì. No, insomma, è normale. Fatto. Ragazzi, easy. Fidatevi all'inizio, all'inizio è normale. Siete stati anche molto bravi. Cioè, fidatelo e vi dico. Perché non tutti la fanno alla prima. Allora, fate vedere il Torvukun, se mi manca qualcosa a me. Di collezione. Perché per i tank il Torvukun è tanta roba. Io non ve lo posso dare il Torvukun, tranquillamente. C'ho tutto. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.